Non c'è fine al dolore per la morte del piccolo Gabriel Feroleto e non ci sarà mai. Un figlio che, come ha detto il sindaco Ferdinandi, è figlio di tutti noi. Oggi è il giorno dell'ultimo saluto, una comunità, quella di Piedimonte, incredula ed attonita, che si domanda soltanto una cosa. Avremmo potuto fare di più per salvarlo? A soli due anni e mezzo gli è stata strappata la vita, con violenza ed atrocità da chi avrebbe dovuto soltanto proteggerlo e amarlo. Ieri in molti hanno raggiunto la Camera Ardente per una preghiera, per portare un fiore al piccolo e per dare forza a nonna Rocca, piegata dal dolore, distrutta e senza forze per aver perso suo nipote. In quella Camera Ardente, troppo difficile da attraversare, c'era un camioncino dei Vigili del Fuoco che tanto amava il piccolo Grisù, un coniglietto in ceramica e tanti fiori. Presenti anche i carabinieri e i Vigili del Fuoco. Non c'erano la mamma Donatella di Bona né il papà Nicola Feroleto. Si trovano in carcere, accusati di concorso in omicidio volontario. Per gli inquirenti non ci sono dubbi, ad uccidere il bimbo sono stati proprio i genitori, coloro che lo hanno concepito e messo al mondo. C'è un universo di relazioni familiari e personali complesse dietro al delitto del piccolo Gabriel, morto per asfissia. Storie intrecciate e ancora troppo difficili da districare. Si lavora intanto alla ricostruzione del movente, diverse le ipotesi al baio dei gomini del colonnello Fabio Cagnazzo. Gli inquirenti hanno sequestrato tre cellulari, due di Donatella di Bona e uno di Nicola Feroleto. Oltre alle intercettazioni ambientali ci sono anche quelle telefoniche. Ma gli investigatori, diretti dal sostituto procuratore Valentina Maisto, in questa fase non lasciano trapelare nulla. L'esito dell'autopsia eseguita dai dottori sarà depositata tra due mesi.